Quando era potente e tutti pendevano dalle sue labbra, al punto che vertici delle forze dell'ordine, magistrati, politici, burocrati e imprenditori lo subissavano di richieste di favori, in tanti sapevano delle sue origini mafiose, ma nessuno evidentemente parlava. Antonio Calogero Montante, nel processo da cui è già uscito con la condanna a 14 anni di reclusione, continua ad essere protagonista. Gli altri imputati che hanno scelto il rito ordinario sono impegnati nell'istruttoria dibattimentale ma si continua a parlare di lui. Ed anche un imprenditore del calibro di Francesco Averna, testa in aula, dice che conosceva dei legami di Montante con la mafia, proprio mentre si ergeva a paladino dell'antimafia. Al punto che ha avuto gioco facile il difensore di Montante, dopo le deposizioni in aula di Francesco Averna, Tullio Gerratano e Michele Tornatore, nel chiedersi, tutti sapevano e nessuno parlava? Ci sono due verbali che riguardano dichiarazioni alla squadra mobile Nissena risalenti al 2015 del 24 novembre e del 4 agosto, che sono entrate a sorpresa nel processo, nei quali Francesco Averna, ex presidente di Confindustria Caltanissetta e delegato nazionale, parla, racconta, dei rapporti tra l'ex numero uno di Confindustria e il capo mafia di Serra di Falco, Vincenzo Arnone. Parole che non fanno il paio, con i molti non ricordo dell'esame durante l'ultima udienza del processo con rito ordinario, in cui Averna è stato sentito come teste. I rapporti tra Montante e Arnone alleggiavano sul processo. Averna, incalzato dal difensore di Montante sulla figura di Vincenzo Arnone, capo mafia della famiglia di Serra di Falco, compare di anello di Montante e, associato a Confindustria sino ad essere nominato nel Comitato dei Saggi, racconta di averlo conosciuto quando Montante glielo presentò e non averlo più visto. Nel verbale delle dichiarazioni di Averna, in realtà, si legge che di Arnone, dentro Confindustria, si era già parlato quando doveva essere associato. La ditta Arnone, ricordo, venne caldeggiata da Antonello Montante e da qualche suo amico fidato, come Marco Venturi, ed altri di cui non ricordo. Ma c'è di più. Se ne parlava all'interno dell'associazione perché in molti avevano la perplessità di associare una ditta piccola, con soli tre dipendenti e riconducibile alla famiglia Arnone. La presentazione sarebbe avvenuta durante la riunione nella quale fu eletto Marco Venturi, presidente dei giovani industriali di Assindustria, succeduto ad Antonello Montante. A fine assemblea, dentro i locali dell'associazione Assindustria, ha dichiarato l'imprenditore Averna alla squadra mobile, Antonello Montante mi presentò il signor Vincenzo Arnone, accreditandolo come soggetto che tempo prima era stato nominato dallo stesso Montante, quale probbiviro del gruppo Giovani Industriali. Averna fu messo in guardia rispetto alla nomea di Arnone da un altro dirigente dell'associazione, l'ex presidente Pietro Di Vincenzo, parte civile nel processo. Nei giorni successivi, racconta alla polizia, Averna venne avvicinato da Di Vincenzo, in quel periodo presidente dell'associazione, il quale mi consigliò di evitare qualsiasi rapporto, sia associativo che personale, con Arnone, in quanto Di Vincenzo lo definiva persona da non frequentare assolutamente e ricordo che nel consigliarmi ciò fu altamente pressante e perentorio. Poi Montante spiccò il volo e Di Vincenzo divenne vittima del suo sistema.